Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. In queste ore è arrivata l'attesa svolta sul caso, dopo giorni di ricerche purtroppo l'amara scoperta. Nessuno poteva aspettarsi un destino così atroce per il povero uomo, le cui speranze di ritrovarlo sano e salvo sono finite nel modo più angosciante possibile. Emilio Sali era scomparso da Codogno lo scorso sabato 19 agosto, un comune in provincia di Lodi, facendo perdere totalmente le tracce di sé. Improvvisamente nessuno ha avuto più notizie dell'82enne, che ha fatto così temere per il peggio, anche perché non era solito allontanarsi per così tante ore. Non appena hanno ricevuto la segnalazione, i carabinieri hanno fatto iniziare le ricerche in lungo e in largo per la zona. Tuttavia dopo giorni di perlustrazioni non si sono scorte neppure le tracce dell'anziano uomo, che sembrava proprio essere finito nel nulla. La brutta notizia è arrivata poi nel pomeriggio di venerdì 25 agosto. Il corpo di Sali è stato ritrovato nella sua automobile in un punto dell'area golenale del fiume Po, precisamente a Castelnuovo Boccadada. A scorgere L82enne era privo di vita nella sua tiguan grigia chiaro sono stati i carabinieri del comando di Codogno, che hanno subito allestato i sanitari. Purtroppo, era ormai troppo tardi in quanto il povero Sali era deceduto probabilmente già da giorni.